ed eccoci qua il nuovo gameplay in località singolo con un cartone che praticamente viene alla ricerca della sua prima vittoria però stenta ad arrivare stenta ad arrivare perché qui gioco nuovo ma pro gamer vecchi ogni tanto si incontra qualche marpione super pro e c'è poco da fargli sono cattivi molto cattivi se la prendono sempre quei più deboli tipo io sono molto deboli ma comunque ci sta oh questo dovrebbe essere guida oh ma no perché si bene ragazzi non so se vi ho fatto caso io non ho più quale idea di domandare quello è il problema oh no 3 airdrop no 3 airdrop sarebbe il record mondiale nessuno ha mai preso 3 airdrop in una partita in questo gioco signori sarebbe il record mondiale non 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 lo rip non ho sparavo a lui, sparavo solo per fare un paio, ecco, almeno mi ha lasciato più corti le cose, va bene, comunque dobbiamo andare sempre in safe, ragazzi, io me lo volevo dire, in safe c'è comunque, d'annaccio, tre airdrop, signori, record del mondo, record del mondo, mai nessuno prima, buono, dove cazzo c'è qui? Oh, oh. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti